Giù le mani da Christian Pulisic, giù le mani da un ragazzo così corretto, da un ragazzo che è un professionista esemplare. Christian Pulisic non è il problema di Lazio-Milan, lo diciamo veramente con molta chiarezza, perché sto leggendo davvero di tutto attorno a questo giocatore che è stato preso anche di mira da parte di alcuni tifosi laziali, dove gli hanno augurato la morte, le peggiori malattie a lui e alla sua famiglia, davvero uno schifo, davvero scandaloso. Per un'azione di gioco la gente va poi a riversare tutta la sua frustrazione sui social, che diventa uno sfogatoio, ma giù le mani da Christian Pulisic. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi cari amici del canale YouTube, rieccoci con un nuovo video, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, in questo video parleremo della difesa che faremo per mettere in risalto l'innocenza di Christian Pulisic accusato anche da giornalisti, dai media e anche dai tifosi di essere antisportivo. Parleremo anche di alcune parole da parte del sindaco Sala, che ovviamente quando si tratta di parlare dello stadio, quando si tratta di parlare del Milan, ci va sempre giù con sarcasmo, è anche abbastanza pesante, e anche di uno show di Lotito che però è un po' smemorato, perché non si ricorda che probabilmente anche la sua squadra ha commesso questo tipo di azione, poi vedremo, poi ne parleremo. Cominciamo con Christian Pulisic. Pulisic viene accusato di essere un giocatore antisportivo per il semplice fatto di aver giocato in maniera regolare, seguendo le regole. Lo sapete perché? Perché se l'arbitro non fischia, il giocatore deve proseguire l'azione. Se l'arbitro non fischia, l'azione va avanti, prosegue. È il primo elemento di un giocatore, la prima regola che deve conoscere un giocatore. Il gioco si interrompe solo quando l'arbitro fischia. E poi, se il buon Pellegrini voleva l'interruzione del gioco per il compagno di squadra a terra, calciava la palla fuori, semplicemente la buttava fuori, come succede sempre. Tra l'altro, e questo ci tengo a ribadirlo, Pulisic non può essere mai antisportivo, perché quando insegue il pallone e va verso Pellegrini per sottrarlo, non vede che alle spalle c'è un giocatore della Lazio a terra. Non lo vede, si vede chiaramente dalle immagini. E quindi come si può accusare Pulisic di aver fatto semplicemente il suo lavoro, cioè rimanere applicato sulla regola del calcio? Ovvero, se l'arbitro non fischia, il gioco continua. È molto semplice, è molto semplice. Non capisco perché la gente stia impazzendo per questa situazione di campo. Evidentemente si vuole fomentare i tifosi, evidentemente c'è frustrazione generale, e si va a riversare tutta questa frustrazione in maniera vergognosa su un giocatore che ha semplicemente giocato seguendo le regole del calcio. Detto questo, il buon Lotito, che sembra un po' smemorato, perché ieri il presidente della Lazio è andato in tv, si è fatto tutte le televisioni, ieri sera Lotito, tutte le tv possibili e immaginabili, partita priva di valori sportivi, come se poi, insomma, è la prima volta che un giocatore, col giocatore a terra si prosegue l'azione. La squadra si farà valere nelle sedi preposte e ancora l'arbitraggio di Lazio-Milan è il male del calcio, insomma, tutte queste frasi che poi lasciano il tempo che trovano. Ma il buon Lotito non si ricorda che, in tema poi di sportività, probabilmente è ancora un po' la memoria corta, Nell'ottobre del 2021, neanche troppo tempo fa, la Lazio di Sarri vince contro l'Inter grazie ad un gol segnato, mentre un giocatore avversario era a terra. Incredibile, è successo anche la Lazio, neanche vent'anni fa, ma semplicemente nel 2021. In quell'occasione Sarri dice, e sono parole dell'allenatore della Lazio, quando Di Marco resta in terra la palla c'era l'Inter, se qualcuno doveva mettere fuori la palla erano loro, c'è poco da dibattere, con un uomo per terra sono andati alla conclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c'è un regolamento preciso, queste scene si vedono solo in Italia, in Inghilterra si prosegue a giocare. Quindi è quello che ha fatto il Mian, ha proseguito a giocare, perché c'è una regola, il gioco va avanti finché l'arbitro non fischia. Molto lineare, molto semplice. Quindi se capita la Lazio va tutto bene, se capita il Milan giù lo scandalo, giù l'indignazione generale del mondo del calcio, dei tifosi della Lazio e così via. Quindi bisogna anche essere coerenti, e la coerenza nel mondo del calcio purtroppo non c'è. Detto questo, parliamo anche di altre dichiarazioni che comunque non sono piaciute, quelle del sindaco Sala. Sala continua a dire che riuscirà a portare Milano e Inter verso San Siro, a portare Milano e Inter a rimanere, o meglio, con Milano e Inter a San Siro. Non ha capito probabilmente che Milano e San Siro non ci vuole rimanere con le attuali condizioni, neanche con una ristrutturazione lieve, e vuole andare a San Donato. Lui dice al netto delle dichiarazioni di Cardinale, settimana prossima inviterò allo stesso tavolo Milano e Inter e WeBuild per verificare le esigenze dei club. Siamo ancora alla solita storia. Ho detto alle squadre che se vogliono lo stadio di proprietà si dovranno prendere in carico le spese. E questo lo sappiamo già. Per quanto riguarda invece i costi di questa eventuale ristrutturazione di San Siro, diciamo 300-350 milioni. Quindi Milano e Inter spendono 350 milioni per rimanere in uno stadio non di proprietà dove si va a modificare massimo il 10% dello stadio. Mi sembra una follia assoluta, però si continua Sala e dice Parliamo di fatti. Il 1 febbraio scrivo al Milan su carta intestata avendo preso atto che il Comune di San Donato ha avviato una procedura per la realizzazione dello stadio vi chiedo di confermarmi che non siete più interessati a San Siro. Sala prosegue. Il 23 febbraio mi rispondono in maniera interlocutoria lasciando aperta la questione. Dipende da quello che sarà il giudizio finale della soprintendenza sul vincolo a San Siro. Poi vedremo. Quindi diciamo che il sindaco Sala mette ancora in evidenza il fatto che il Milan vuole tenersi una porta aperta per San Siro qualora dovessero sorgere dei problemi a San Donato. ma è altrettanto chiaro ed evidente che il Milan come primo progetto a San Donato vuole andare lì a costruire lo stadio. Poi può lasciarsi comunque altre strade aperte perché siamo in Italia e gli intoppi possono avvenire in qualsiasi situazione in qualsiasi momento però è evidente che il Milan vuole andare a San Donato. Quindi la posizione di Sala è che lui vorrebbe che il Milan si esponesse pubblicamente dicendo basta, non dialoghiamo più su San Siro andiamo direttamente a San Donato. Questo credo che non possa avvenire perché il Milan vuole sempre lasciarsi delle alternative alla costruzione dello stadio a San Donato. E poi c'è da dire anche un'altra cosa tra le due squadre, tra Milan e Inter quella che sembra più in difficoltà a livello finanziario è la formazione nera-azzurra quindi l'Inter di Zhang che ultimamente sta riconsiderando l'idea di rimanere a San Siro probabilmente anche perché non ha risorse per costruire un nuovo stadio ve la butto lì chissà, probabilmente non avremmo mai immaginato questa cosa quindi detto questo la situazione è la seguente il Milan continua a dialogare con Sala e l'Inter anche per questioni di rapporti ma come ben sappiamo e lo ha detto anche Cardinale nell'ultima intervista a Londra al Financial Times l'obiettivo primario è San Donato e la sua risposta alla domanda il Milan costruirà un nuovo stadio lui ha detto in maniera secca sì quindi vedremo cosa ne sarà in questo video ho voluto rimarcare la poca coerenza nel mondo del calcio visto anche le dichiarazioni di Claudio Lotito presidente della Lazio la vergogna che si legge in giro sui social ad attaccare un giocatore che ha semplicemente rispettato una regola del calcio cioè Pulisic che ha continuato l'azione perché comunque l'azione andava continuata e poi delle parole del sindaco Sala che continua a stuzzicare il Milan sul tema stadio io comunque vi saluto invito ad iscrivervi al canale YouTube mettere like, attivare la campanella ci vediamo al prossimo video analizzeremo altri temi della partita tra Lazio e Milan poi ci avvicineremo anche alla gara di Europa League insomma sempre tante tematiche ciao